buongiorno a tutti sono l'architetto franco rebecchi fondatore di bim una startup italiana che si occupa di building formation moduli con questo corso di e learning prodotto da modulo vi introdurremo al bim l'importante rivoluzione che sta cambiando la filiera delle costruzioni vi presenterò in 13 puntate le principali tematiche sull'argomento dall'apparato normativo allo scenario internazionale fino all'utilizzo degli strumenti per approfondire questa rivoluzione